Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura come sempre l'emergenza sanitaria. Torre del Greco sarà il primo comune nell'ambito dell'ASL Napoli 3 Sud ad aprire alle vaccinazioni anche presso gli studi dei medici di famiglia. Intanto la campagna resta zona rossa, le prossime aperture potrebbero scattare tra due settimane sempre che i dati lo consentano. Ecco Pasquetta 2021 in collegamento con gli studi di TV City. Il presidente dell'associazione Prima Aurora fa il punto sull'operato delle forze dell'ordine e dei volontari a difesa delle pinete. In chiusura lo sport con la Turris sempre più vicina alla salvezza attesa per il prossimo match con la Ternana. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Sarà possibile ora vaccinarsi anche presso gli studi dei medici di famiglia. Si accelera con la campagna vaccinale a Torre del Greco che sarà il primo comune a partire proprio in queste ore nell'ambito dell'ASL Napoli 3 Sud. L'annuncio arriva dal dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'ordine dei medici di Napoli e provincia nell'approfondimento curato da TV City direttamente da Palazzo Baronale con il sindaco Giovanni Palomba. Dopo un accordo nazionale, regionale e con l'ASL, Torre del Greco parte per prima nella Napoli 3 Sud con i medici di medicina generale che cominceranno a vaccinare nei propri studi e a domicilio dei pazienti non ambulabili. Stamattina abbiamo avuto la prima consegna di circa 3.500 vaccini e sono 22 medici impegnati al ritiro di questi vaccini e tra oggi e domani comincerà la campagna vaccinale presso i nostri studi e a casa dei nostri assistiti. Credo che questa sarà la svolta. I centri vaccinali pubblici, quelli dell'ASL, continueranno a funzionare ed i medici di medicina generale, io ho finito appena adesso, continueranno a vaccinare anche presso il centro vaccinale. La novità è che mentre il centro è unico e là ci sono 4 medici al giorno che vaccinano, i medici di medicina generale sono 55 per adesso, più 8-9 medici che arriveranno a giugno, sono dei veri e propri centri vaccinali sul territorio in prossimità degli assistiti e questo consentirà la svolta. Immaginate che ogni medico possa fare 20 vaccini al giorno, per 50 sono 1000 vaccini al giorno. 1000 vaccini al giorno, io intendo fare per esempio, come me e anche i colleghi, anche delle sedute dedicate il sabato mattina, ci consentiranno per settembre, e questo è l'augurio che io faccio a noi operatori, al sindaco e a tutti i cittadini che per settembre avremo vaccinato tutta la popolazione adulta di Torre del Greco. Secondo i dati aggiornati al 31 marzo, gli over 80 al momento vaccinati sono esattamente 2104. Gli ultraottantenni sono stati già vaccinati il 214, è il 31 marzo, quindi il numero è aumentato, i sanitari 2215 e i docenti e non docenti 1394, i fragili 102, forse l'ordine 61, disabili 4, però questo è il dato aggiornato al 31 marzo. Noi speriamo con il nostro intervento nella campagna che questi numeri diventano molto più elevati. Italia su due binari, con 10 regioni in zona arancione e 9 in rosso, fra cui anche la campagna, ma senza escludere l'ipotesi di un allentamento delle misure in quei territori dove i dati dell'epidemia dovessero migliorare. La cabina di regia non è stata al momento convocata, ma è sulla base dei dati elaborati settimanalmente dall'IS, Direzione Generale Prevenzione e Regioni che verranno eventualmente valutati, la situazione sulla diffusione del contagio, eventuali misure e i tempi necessari. E se le cifre saranno confortanti, per l'apertura graduale del Paese sarà imprescindibile infilare una serie di passaggi e, se ci sarà, il provvedimento dovrebbe comunque essere contenuto in una delibera che dovrà poi avere l'ok definitivo dal Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è programmare date e stabilire se e chi potrà alzare le serrande dopo il 20 aprile. Prima però il Premier Mario Draghi avrà una serie di colloqui e appuntamenti istituzionali. Giovedì prossimo ci sarà l'incontro con le Regioni, con il tema delle recovery all'ordine del giorno. I governatori, che vedranno anche il Ministro Maria Stella Germini alla Conferenza Stato-Regioni, chiedono di fornire prospettive a quei settori chiusi, valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere, da maggio, la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo, come ad esempio le palestre. La proposta, dalla metà del mese, oltre a bar e ristoranti, è riferita anche ai parrucchieri in zona rossa e ai musei. Oltre al leader della Lega, Matteo Salvini, a spingere per le ripartenze in alcuni territori, prima della fine del mese, anche Forza Italia. Non solo attività commerciali, in quei territori dove potrebbero essere programmate eventuali aperture, tra le ipotesi c'è quella di disporre parallelamente il ritorno alle scuole superiori in presenza al 100%, sulla base del miglioramento dei dati epidemiologici. Al momento il nuovo decreto prevede l'attività didattica in presenza anche in zona rossa, fino alla prima media e DAD, dalla seconda media alle superiori. In zona arancione, per questi ultimi il ritorno tra i banchi è previsto al 50%. È stata prorogata invece al 30 aprile la stretta sui viaggi all'estero. Chi rientra in Italia dovrà continuare obbligatoriamente a sottoporsi al tampone, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per 5 giorni. Al termine dell'isolamento bisogna effettuare un altro test. In Europa sarà comunque possibile viaggiare senza motivazioni specifiche, così come dal 7 aprile, anche in Austria, Israele, Regno Unito e Irlanda del Nord. Approfondimento ai tv siti sull'Eco Pasquetta 2021, l'evento che ha visto volontari e forze dell'ordine impegnati nella salvaguardia delle pinete sul Vesuvio. In collegamento Silvano Somma, dell'Associazione Prima Aurora, che spiega l'operato dei volontari e lancia un importante messaggio. È stata di nuovo una Pasquetta blindata, di nuovo una Pasquetta che non ha visto nessun gruppo di Pasquettanti, per questo non ci sono stati sversamenti di rifiuti di nessun tipo. Ottima la sinergia tra le istituzioni e le associazioni, che sono state sempre di più, e cosa importante è anche associazioni provenienti da altri territori. Quindi l'Eco Pasquetta si diffonde dal Vesuvio anche in altre zone, proprio sotto la bandiera dell'ambiente e della tutela della natura. Quindi questo è un messaggio importante. Abbiamo infatti anche lanciato una campagna di sensibilizzazione tramite social, che aveva appunto come scopo quello di fare un'Eco Pasquetta, anche se a casa. Quindi avere una serie di buone regole anche all'interno della propria abitazione. Qual è stato il lavoro dei volontari in questo giorno così particolare? Rispetto a quello che abbiamo sempre fatto in modo classico, cioè quello di sensibilizzare, distribuire buste per i rifiuti, e comunque controllare che andasse tutto nello giusto modo, quest'anno invece abbiamo fatto una vera e propria attività di controllo in supporto delle forze di polizia e forze dell'ordine. Quindi proprio per controllare che non ci fossero gruppi di Pasquettanti, che in quel caso non stavano solo violando quello che era la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente, ma stavano violando anche le norme relative alla zona russa. Quindi abbiamo controllato, abbiamo monitorato in varie zone, in più punti e in più comuni, che tutto andasse secondo norme e secondo la legge. Ovviamente ci siamo concentrati in quelle che sono le zone più critiche, che negli anni si sono dimostrate più critiche, quindi quelle che sono le zone che storicamente sono più interessate da questo fenomeno. E ci sono stati trasgressori? Non abbiamo rintracciato nessun trasgressore, non ci sono stati trasgressori. Abbiamo ritrovato solo qualche escursionista che faceva sport in modo individuale all'aria aperta, quindi rispettando le norme. A noi in realtà questo non è l'obiettivo della nostra associazione né delle copasquette, perché quello a cui noi tendiamo, il nostro obiettivo è quello di garantire una fruizione sostenibile, riavvicinare le persone alla natura e ovviamente al rispetto di quest'ultimo. Quindi il nostro augurio è che i cittadini possano tornare a frequentare i boschi e le pinete del Vesuvio, che appunto devono essere libere, devono essere fruibili in modo libero, sereno, però ovviamente ognuno di noi ha poi anche il dovere di tutelarle e rispettarle e fare in modo che gli altri facciano altrettanto. Rush finale in campionato per la Turis, che vede oramai vicinissima una salvezza che si stava facendo complicata in un girone di ritorno a varo di soddisfazioni per la squadra Corallina. Gli uomini di Caneo, reduci dal K.O. di Teramo, mantengono i quattro punti di vantaggio sull'ultimo posto valevole per il play-out, occupato in questo momento dalla Vibonese. Ma in realtà non è sui calabresi che la squadra Corallina deve fare i suoi calcoli. Infatti, se anche venisse agganciata e superata in classifica, la Turis avrebbe un'ulteriore margine di sicurezza da difendere per evitare gli spareggi di retrocessione. Stando regolamento in vigore nella terza serie nazionale, i play-out, se disputeranno solamente se tra le squadre Lizza, ci sono al massimo otto punti di distacco. E al momento tra i torresi e la Cavese, la squadra che al momento occupa la posizione più bassa in classifica e quindi la teorica avversaria, ci sono la bellezza di 19 punti, anche se va ricordato che i metelliani devono recuperare una partita domani contro la Ternana. Ma anche guardando alla peggiore delle ipotesi, ad esempio con la Turis che non racimula più punti nelle ultime quattro gare da disputare, resta comunque da gestire un ottimo margine di otto punti di vantaggio sull'attuale quart'ultima, vale a dire la Paganese, che ad oggi disputerebbe il proprio spareggio contro il Bisceglie. A conti fatti Coralini hanno nelle proprie mani la quasi certezza di mantenere anche nella prossima stagione un posto tra i professionisti, traguardo ampiamente dichiarato dalla società. Il prossimo appuntamento che potrebbe sancire la definitiva salvezza sarà domenica contro la Ternana, dominatrice del campionato, che ha ottenuto proprio nello scorso turno la matematica promozione in Serie B, ma che sicuramente si presenterà a Torre del Greco con l'intento di non regalare nulla, ricordando anche che fu proprio la Turis a interrompere l'impressionante striscia record di vittorie consecutive degli Umbri nel girone di andata. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.